del lavoro degli infermieri, di un nuovo modello organizzativo. Si chiama dell'infermiere referente e porta grandi vantaggi per i malati. Sono più di 2000 gli infermieri che lavorano nel Policlinico Gemelli di Roma. Hanno competenze professionali specifiche per assistere malati con problemi molto diversi e nel reparto di ematologia viene sperimentato un nuovo modello organizzativo del lavoro degli infermieri, detto del primary nursing, fondato da un'infermiera americana, Mary Montey. La regola fondamentale del modello del primary nursing è la presa in carico del paziente da parte dell'infermiere referente dall'ingresso alla dimissione. L'infermiere referente pianifica l'assistenza infermieristica, la condivide con il paziente e determina un'assistenza personalizzata. Anche io in questo momento sto seguendo come infermiere referente tre pazienti che hanno eseguito un trapianto di midollo osseo e li sto seguendo in tutte le fasi assistenziali, nella fase di relazione con i familiari, nelle fasi di relazione anche con l'equip medica e con le altre figure professionali. Il modello organizzativo primary nursing o modello dell'infermiere referente è un modello scientifico basato su delle regole che devono essere rispettate come per esempio la presa in carico del paziente, la pianificazione dell'assistenza infermieristica dall'ingresso alla fine del percorso di cura, alla dimissione. Il modello dell'infermiere referente aumenta la sicurezza del paziente e questo fa in modo di ottimizzare le cure, di far sentire il paziente più coinvolto nel processo di cura.